Magari non prendo più il microfono, voglio ringraziare questa bellissima cittadina che è pieno di sorrento per aver dato la possibilità a Vero, questo bellissimo gruppo poliuristico città di Agerola, siamo dei vicini di casa, abitiamo qua vicino, quindi siamo paesani, più che paesani, ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo tutti quelli che lavorano per la festa di San Michele Arcangelo, io voglio ringraziare personalmente Federico Iaccarino, l'amico che ci ha dato la possibilità, diciamo il nostro cangio per dare la possibilità a voi, ma anche a noi di essere qua e festeggiare insieme San Michele Arcangelo speriamo di essere all'altezza di questa bellissima piazza, siamo poco perché dopo c'è il grande mitico Piaggio Rizzoli sul palco, noi vi vogliamo ringraziare con la musica del gruppo poliuristico e incannunciamo finito il nostro repertorio con musiche da Oscar, quindi cambiamo un po' il genere, non è solo napoletano, abbiamo tante tante canzoni, speriamo di poterne fare quando più è possibile, grazie, 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 però se volete potete anche ballare o cantare, magari forse, non lo so, suonare anche se ce la fate, va bene, grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!